Vi saluta, sessantottesima edizione dei campionati italiani direttati. Come noto, questa manifestazione avrebbe tenuto per luogo a Bari, ma non essendo ancora ultimati i lavori per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport della città barese, i campionati stessi si sono appoggiati in una sede ugualmente illustre, ugualmente ricca di grosse tradizioni pugilistiche, come appunto e Saint-Vençà. E' diventato luogo comune definire questi campionati italiani manifestazioni di particolare interesse. In quest'anno le cose in effetti sono apprezzo così, i giochi olimpici di Barcellona sono vicinissimi e da questo momento ogni manifestazione a livello nazionale, che includa pugili di prima serie, è importante ai fini di stabilire il livello della nostra partecipazione alla prestazione olimpica. A prescindere da quello che poi possono dire i vari meeting internazionali. Gli assoluti infatti ci permettono di scoprire eventuali rincalzi, cioè pugili veri e propri outsider, che magari non sempre sono riusciti ad attermarsi a livello nazionale, ma però dimostrano poi improvvisamente delle doti che li fanno inserire di diritto nel ristretto novero dei pugili di interesse olimpico. Fino a questo momento due titoli assegnati nei pesi mini Mosca con la vittoria di Secchi, Sassari e nei pesi Mosca con la vittoria del pugliese Castiglione, favorito quest'ultimo nei confronti di De Gese. Comunque è stato un incontro interessantissimo, si è concluso proprio nel momento in cui abbiamo iniziato il collegamento. In questo momento sul ring, per la categoria pesi più ma fino a 57 kg, sono Luigi Quitadamo, Umbro e Fabio Pierleoni. Quintadamo è il pugile in maglietta azzurra con la fascia rossa in vita, lo vediamo di spalle in questo momento, mentre Fabio Pierleoni è invece un pugile in maglietta bianca, marchigiano in guardia destra, protende cioè il destro, essendo pugile mancino. Quitadamo è uno dei favoriti in assoluto della categoria, ha dimostrato tutta la sua potenza fino a questo momento. è nato a San Severo, dove si è pugilisticamente formato nella scuola Federico Facciolli e ora gareggia con i colori delle Forze Armate. Ed in effetti si presenta qui come rappresentante dell'Umbria, essendo la sede pugilistica delle Forze Armate a Orvieto. È stato campione italiano nell'86 e nell'88, vice campione del mondo junior a Cuba nell'87, bronzo ai mondiali di Mosca nell'89, medaglia d'oro a Venezia nell'ultimo torneo internazionale di pochi mesi fa. In questi assoluti ha battuto ai punti negli ottavi Cioffi e per avresto del combattimento per ferita il siciliano Mancari. Ha ben 85 presenze in nazionale, per cui questo sta a dimostrare dell'estrema e esperienza di questo pugile, di fronte al quale vi è un 19enne, Fabio Paglioni, pesarese, la sua società è la Vittarelli, campione italiano di Anovizia nel 1988. In questi assoluti ha realizzato un vero e proprio esploit, cioè quello di superare con estrema facilità tre turni eliminatori, battendo i pugliesi Montedoro, poi l'Aziaio Lofoco e infine il Lombardo a Grillo, ieri in semifinale al termine di un incontro molto duro. Paglioni invece non è mai stato convocato in nazionale, 19 anni, può essere definita una speranza ed è una delle sorprese di questi campionati assoluti. Luigi Quittadamo, ricordo, è in maglietta blu, mentre Fabio Paglioni, 19enne di Pesaro, in maglietta bianca. Qui a fianco abbiamo Nino Benvenuti, il nostro campione indimenticato e indimenticabile, ha seguito le vicende di questi campionati italiani. Nino, tu che ormai segui la box da diversi anni, ne hai vissuto a parabola sia come atleta, adesso come osservatore, puoi dare un giudizio mentre siamo al termine della prima ripresa tra Quittadamo e Pierleoni. Uno giudizio generale, brevissimo, su questi campionati italiani, proprio nell'ottica degli ultimi anni di Pugilato italiano. Certo, certo. La cosa più importante, interessante, quella che balza subito all'occhio di tutti, è sentire l'età di questi giovani, 19 anni, 18, 20 anni. Insomma, sono giovanissimi. È una ragione questa, purtroppo, perché passata l'Olimpiade sono tutti passati al professionismo e sono rimasti quei pochi, grazie all'interessamento della federazione, quei pochi campioni già affermati come Quittadamo e gli altri sono giovanissimi. Ecco, direi che questo è un dato confortante se si pensa al valore di questi giovani per l'età in cui salgono sul ring. Però, d'altra parte, non puoi in questo modo pretendere di avere dei campioni affermati nel momento in cui devi affrontare incontri internazionali importanti come quello delle Olimpiadi, le Olimpiadi di Barcellona, che saranno fra due anni. Sono giovani moltissimo, ma, d'altro canto, l'Italia ha sempre dimostrato che il contributo di medaglie da parte del Pugilato è sempre venuto. Senti, la crisi pugilistica, mentre intanto vediamo alcune fasi al ralenti che la regista Tina Protassoni ci manda opportunamente in onda, ma l'ottica generale del nostro Pugilato si dice sia in crisi a livello professionistico, a livello invece di puri. Come puoi individuare, come puoi inserire questo momento? Ecco, abbiamo anche un bel dato, quello di questi campionati proprio di San Vensan, dove sono 145 le presenze, se l'avrei già detto, contro le 85 della scorsa edizione. Quindi è importante questo, vuol dire che probabilmente i giovani si indirizzano volontariamente al Pugilato, sport duro, difficile, ma che non è più pericoloso di tanti altri sport per i quali non si hanno parole così pesanti come per il nostro. Certo. Intanto è cominciata la seconda ripresa, tra Luigi Quittadamo in maglietta blu e Fabio Pierleoni in maglietta bianca a guardia destra. Un divario di esperienza di dimensioni gigantesche tra i due. Quittadamo è espertissimo a livello internazionale, ben 85 volte ha vestito la maglia azzurra, mentre invece Fabio Pierleoni è un 19enne di Pesaro che non ha mai avuto la convocazione nella nostra rappresentativa. Ora la potenza di Quittadamo sembra pian piano averla meglio del giovanissimo avversario. Gareggia molto aperto Quittadamo, il sinistro molto spesso basso, è evidente che non teme minimamente l'avversario. L'avversario inesperto che adesso deve incassare una serie veloce e precisa dell'avversario. Comunque non sembra intimorito più di tanto il giovanissimo pesarese. Assolutamente, questo è una scivolata. No, per niente intimorito. Questo è sempre quello che torno a dire, confortante, considerando che sono ragazzi soltanto di 19 anni e combattono contro dei campioni affermati. Hai detto, tanta presenza in nazionale, il che è moltissimo. Direi che Quittadamo combatte soltanto con la maglia azzurra. Infatti. Quittadamo, quel suo atteggiamento piuttosto aperto, forse un po' guascone può sembrare, direi che è un po' a somiglianza di Pugili dell'Est, dei Pugili che sono i migliori dilettanti del mondo e con i quali anche l'Italia ha avuto dei stage in contemporanea per capire, imparare le loro esperienze. Certo che bisogna vedere di non snaturare quello che è il pugilato classico, il pugilato italiano, che ha sempre dato dei grossi risultati e quindi le mani alzate non guastano mai. Considerato che poi nel campo dilettantistico all'Est sono evoluti in maniera, secondo me, negativa in quanto vi sono Pugili ben oltre i 25-26 anni che sono ancora dilettanti, per cui diciamo che è una snaturizzazione del campo dilettantistico vero e proprio che a mio parere non dovrebbe superare i 21 anni. Sì, mentre da noi i nostri Pugili, passati 21-22 anni come massimo, se non hanno fatto le Olimpiadi, passano al professionismo e quindi il pugilato cambia. Ora c'è un conteggio, una serie di quitadamo, non particolarmente pericolosa, però Pierleoni veniva da una pressione notevole da parte del suo avversario, per cui bene ha fatto l'arbitro a interrompere il combattimento per permettere alla giovane Pierleoni di respirare. L'arbitro è il signor Frassinetti di Grosseto. Ancora il sinistro di quitadamo, proprio in chiusura di secondo round, appare abbastanza stanco Pierleoni e si arriva all'angolo stanco, l'angolo stanco evidentemente le serie che ha dovuto incassare cominciano a farci sentire la sua resistenza del giovane pesarese. Sì, e l'esperienza di quitadamo naturalmente è a buon gioco, anche considerando che Pierleoni combatte in guardia destra, Mancino con il destro avanti e quindi i suoi destri, i destri di quitadamo, hanno facilità di entrare nella guardia. Certo che quitadamo, dobbiamo dire, è uno dei nostri migliori pugili della nazionale, uno che ha un futuro quasi assicurato, ma si trova di fronte a ragazzi di 19 anni che li contrastano il passo in maniera decisa e questo, ritorno a dire, è confortante per il pugilato in sé. Intanto abbiamo rivisto la fase dell'atterramento, della scivolata, soprattutto di Pierleoni, addirittura è stata una testata di quitadamo, seppure involontari a spingerlo giù, che non si era vista perché erano di spalle i due pugili. Siamo alla terza ed ultima ripresa, i contri sono disputati sulla distanza classica delle tre riprese per tre minuti. Non vi sono le macchinette contacolpi applicate negli ultimi tornei internazionali, macchinette contacolpi che saranno obbligatorie nei campionati internazionali e lo saranno anche alle prossime Olimpiadi. Sono macchinette nelle quali tre, nei quali giudici, sono cinque, segnano i colpi portati al volto e al bersaglio grosso, non sulle braccia ovviamente, e non sono facili da adoperare perché per esempio, vi dico una caratteristica, se non vi è unanimità di decisione, per cui di spinta del pulsante di almeno tre giudici su cinque, nel giro di un secondo, il colpo stesso viene annullato, anche se è stato molto forte, per cui vi è una difficoltà proprio intrinseca da parte dei giudici, notevole, per cui d'accordo, lo vedono, hanno i due pulsanti, però occorre un allenamento anche da parte dei giudici, che in questo momento ancora sicuramente non c'è. ammesso non concesso che le macchine dei contacolpi possono essere determinati, perché il pugilato non è fatto solo di colpi, è fatto anche di pugilato vero e proprio. Di pugilato vero e proprio, di potenza che la macchinetta non può registrare. Direi che deve essere messa a punto, ma da parte mia troverei positivo, interessante questo inserimento della macchinetta, perché io ho provato a usarla a mano, senza i tasti, ma con due penne, una per mano, e segnare i colpi che passavano davanti ai miei occhi, alla fine di una ripresa avevo un dato abbastanza chiaro dei colpi che erano stati portati da una parte e dall'altra, che altrimenti non sarei stato in grado di poter contare. Lo sai, ci sono pugili che fanno della potenza la loro arma, che attendono, magari incassando qualche colpo in più, poi ne sparano uno, mentre intanto qui da Damo, eh sì, sta imperversando su Pierleoni, che ha un sorriso quasi di resa, Pierleoni, lucida resa, ma resa comunque. Questi conteggi, sapete, vengono fatti anche nel momento in cui il pugilato è soltanto, non soltanto in difficoltà, ancora prima, solo sotto pressione. Esatto, è anche giusto questo, soprattutto a livello direttantistico. Sì, il pugilato è stato molto sollevato, radolcito, se vogliamo, per cui oggi direi che il pugilato, così com'è, soprattutto nei dilettanti, con il casco, con i guanti e con degli arbitri molto attenti, non deve essere considerato sport pericoloso. Pierleoni ha un eccellente gancio in uscita da un corpo a corpo, è un ragazzo valido comunque, certo che il divario è eccessivo per lui, nei confronti di un Luigi Guitadamo ha avviato a conquistare il suo terzo titolo di campione italiano. E su questo vorrei inserirmi dicendo che il terzo titolo di Guitadamo è probabilmente il quarto nel prossimo anno, no, il terzo lo ha già avuto, sarebbe il quarto, questo, ed il quinto nel prossimo anno, che verrebbe ad egualiare i cinque titoli consecutivi che in bontà mia detengo come record assoluto in Italia ancora. E questo è un dettaglio che disconoscevo, più lo vedi l'importanza di avere Nino benvenuti qui. Adesso tu hai cose leggermente più importanti per cui ti si ricorda. Ancora Guitadamo, ormai siamo in chiusura dell'incontro. Vi trasmetteremo quattro finali di questa rassegna tricolore. Dopo questo incontro vaido per il titolo italiano della categoria di pesi piuma fino a 57 kg. Avremo l'incontro tra i superleggeri Sandro Casamonica, fratello del campione italiano dei superwelter Romolo, e Michele Piccirillo, un altro degli uomini di punta della nostra nazionale. Superleggeri al limite dei 63,5 kg. Poi per i mediomassimi Castelli e Rocco, Roberto Castelli 21enne di Cremona e Gianpiero Rocco diciamo bene Lombardo in provincia di Varese. È finito il combattimento. Nessun problema per Quittadamo, una decorosa e coraggiosa difesa per Fabio Pialeoni. In attesa del verdetto, prima di salutare Nino Benvenuti, vorrei parlare un momentino della difesa del titolo del mondo che ieri sera Rosi ci ha fatto, ci ha dimostrato di valere il titolo mondiale, una difesa comunque tranquilla in fondo anche se l'incontro non è stato tra i più belli a vedere. Rosi sulla Cresta dell'Onda, Calambai è il campione ancora che conosciamo, insomma, questi vecchiacci, chiamiamolo così, Oliva che torna e non demorde, però se non ci fossero loro, criticati finché vogliamo, ma se non ci fossero loro il nostro pugilato, sarebbe ben poca cosa. Abbiamo visto a Parisi che fine gli hanno fatto fare, voglio dire. Veramente se l'è fatta, se l'è un po' cercata. Però ancora è anche a gestire il ragazzo di 22 anni. Se l'è un po' cercata, senza dubbio, ecco, se mi permette un attimo a Parisi dico che prima di cominciare una scalata al titolo mondiale